In modo particolare è rispondere all'invito di Papa Francesco che ci dice di portare il Vangelo agli estremi confini della parrocchia, della diocese, per noi per la parrocchia. Vengano cinque suore e le sorelle missionarie del Vangelo che già conosciamo perché stavano a Antignano. Le sorelle visiteranno quelle strade, quei condomini che sono un pochettino più lontani dalla parrocchia. Altre sorelle prenderanno parte a tutti i centri di ascolto della parola di Dio. Poi ci sono tutti gli incontri col consiglio pastorale, con i catechisti, con i ragazzi della catechesi di iniziazione cristiana e del dopocresima, con incontri con i giovani, con incontri con le giovani coppie, incontri con le famiglie, incontri con i volontari della ronda della carità, con le famiglie che preparano la scena per la ronda della carità. Quindi tutte quelle che sono le espressioni della parrocchia perché abbiamo voluto in modo particolare una missione, come si dice, ad intra. Ecco perché prima di tutto le persone praticanti diventino veramente credenti oltre che praticanti perché poi esse stesse che vivono nei condomini, a contatto con altre famiglie, portino loro sicure della loro fede e testimoniano la fede anche alle altre famiglie.